L'area SIN9 si occupa della progettazione della realizzazione di software in ambito medico, industriale e scientifico, sia standardizzati che specifici per il cliente. Realizziamo software dispositivo medico occupandoci di tutto il lavoro di certificazione, realizziamo software per applicazioni industriali, realizziamo software per applicazioni di visione artificiale e di metrologia. L'azienda mette in campo competenze per la scelta di tecniche realizzative ed algoritmi che permettono l'elaborazione di grosse masse di dati, quali ad esempio volumi biomedici come TAC e risonanze magnetiche, anche pesate in diffusione e in contrasto di fase, TAC industriali, grosse quantità di dati geometrici come nuvole di punti e superfici triangolate di grosse dimensioni. L'azienda è in grado di realizzare internamente tutto ciò che serve per realizzare componenti software di sufficiente qualità ed efficienza. Nel caso in cui il software viene realizzato per un cliente specifico, il cliente è coinvolto in tutte le fasi della realizzazione e l'azienda è in grado di occuparsi di tutti gli aspetti, da quello certificatorio legale, quello contrattuale, quello progettuale, quello realizzativo.